Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology E vabbè, è andata così, è andata così, un risultato poco soddisfacente, secondo me abbastanza immeritato 1-1 al Franchi contro la Fiorentina, poteva andare diversamente, poteva andare come stava andando Nel senso che avremmo potuto evitare di prendere quei gol, complimenti perché è un gol bellissimo Dal punto di vista tecnico, arrivato però dopo un errore a centrocampo, ma anche una, secondo me Lo devo dire, mi fa molto male criticarlo, però una mancata chiusura di Milan Skriniar che sarebbe dovuto arrivare Ma tutto nasce da un errore di concentrazione, lì in avanti stavamo pressando e poi ci siamo ritrovati Più che pressati con un gol, ripeto, straordinario dal punto di vista tecnico Ma che non sarebbe dovuto arrivare proprio per come è arrivato dal punto di vista dell'azione e la situazione in generale Un bellissimo gol di Borca Valero, servito da Brozo che c'è in primo tempo all'ottavo minuto Finta a mandare al bar il difensore, il marcatore e poi un bel gol dolce, delicato, lì dove non batte il sole Una grandissima partita di Borca che non esulta, applaudito anche dai tifosi viole, sui ex tifosi Sempre a difeso, sicuramente non più il Borca appunto della Fiorentina, è il nostro primo Valero Ma pur sempre un giocatore di qualità che come sostituto per me deve essere il primo sostituto Che a gamba non è veloce, però comunque abbiamo visto che sa fare il suo Non è sicuramente una freccia, ma qualche buona accelerazione l'ho comunque vista Magari non regge 90 minuti, ma 65-70 minuti li fa su alti livelli Almeno sempre in partita, poi non sempre, ma non è una macchina Non è che uno non gioca per 7 mesi, poi torna in campo e fa il fenomeno Insomma è umano anche lui Ha ovviamente grande qualità nelle gambe Dei piedi abbastanza buoni Insomma è un giocatore da non buttare sicuramente fin quando ce la farà E fin quando vorrà giocare a calcio Quindi gli dobbiamo tanto, oggi è partita straordinaria La miglior partita sicuramente di quelle che ha disputato finora le stagioni Che sono ovviamente poche finora E grande sindaco Per il resto un Inter non brillantissima Un grande Samirandano Che sul gol della Fiorentina non poteva farci nulla Lì bisogna fare solo i complimenti E poi recriminare un po' per come è arrivato quel pallone là Cioè per come se si è trovato il giocatore della Fiorentina Vicino all'area di rigore Ma poi il tiro che vuoi fare Una difesa buona Un grande Stefan De Vrai come sempre Esemplare in qualsiasi giocata Bastoni molto bene Peccato per l'ammunizione Meno Skriniar anche per questo errore Ma per il resto insomma ha giocato bene anche lui Dico rispetto a De Vrai e Bastoni Altrimenti buona gara Pentato Codin si è visto pochissimo Speriamo che il briscola Alessandro Bastoni non si sia fatto male Perché ci manca pure questo Insomma tutti in fortuna di pure Bastoni Non sarebbe il top Si stava per fare male anche Vesino Pare si sia ripreso Lui partita molto linearia Ma ho visto anche delle buone giocate Valero l'abbiamo detto Molto bene Brozovic come sempre Diffidato a Monito salterà il Genoa Forse giocherà a Goumè Che è entrato in campo e non si è visto Ha sbagliato un paio di tocchi Ma non l'abbiamo visto Altrimenti nel vero senso del termine Poi è entrato a Politano Ma anche lui ha potuto fare pochissimo merito Di più deve giocare di più Politano i cambi vanno fatti prima Mister Lukaku A me è piaciuto Non capisco chi lo critica Perché ragazzi Ora criticarlo ancora solo perché non ha segnato È vero che poteva fare di più nel secondo tempo Su quella palla Buttata forse un po' addosso a Dragoschi Ma nel primo tempo vogliamo parlare Del grande stacco di testa Salvato miracolosamente Dallo stesso Dragoschi Non ne parliamo Quindi Non è riuscito a saltare Pezzella Per esempio Su un'occasione molto pericolosa nel secondo tempo Sì ha sbagliato Però innanzitutto può sbagliare E poi ragazzi Ha avuto anche le sue occasioni Ha messo una palla straordinaria per Lautaro Sul gol annullato Che secondo me Insomma Poteva anche Sarebbe anche potuto essere Regolare Dipende Non ho capito bene Diciamo che è un fuorigioco millimetrico Se c'è Lautaro Ha giocato meglio Ma anche lui Insomma Non è che sia stato strepitoso Poteva fare di più Anche se si è mostro bene in campo Buoni dribbling Buone giocate Non ha fallito Occasioni incredibili Lì l'aveva anche messa dentro Su però Ripeto Una grandissima palla Del gigante Romero Lucano Così e così ragazzi Secondo me I cambi vanno fatti prima Solo questo Ma non mi permetterei mai Di criticare Conte E chi poi Critica o va anche oltre Capitemi Complimenti alla società Per aver annullato La conferenza stampa Sono perfettamente D'accordo Beh vado a farsi curare Ma vado a farsi curare Anche chi critica Lukaku Offendendolo Ironizzando Per la partita di stasera Perché ragazzi Non avrà giocato da Dio Ma ha avuto le sue occasioni Comunque ha sbagliato poco Relativamente Ma poi ci può stare Nei che può segnare sempre Non è Non è un Un marziano Neanche lui Così come Come tutti gli altri Insomma Fatemi sapere nei commenti Cosa pensate Fiorentina 1 Inter 1 Complimenti a Borcavalero Contentissimo per lui Pari punti Con la Juve che ha vinto 3 a 1 Con l'Udinese E niente Ormai siamo fuori dalla Champions C'è solo il campionato La Coppa Italia Ci penseremo dopo Quindi concentriamoci Per la gara contro il Genoa In cui non ci saranno Né Brozzo Né Lautaro Che sia un'occasione Per Esposito Vedremo E poi però Agumè Agumè Che avrà una grande responsabilità A meno che non dovesse giocare Asa Non so se si sia ripreso totalmente Asamoah Aspettando Sensi e Barella E volendo Cagliardini Contro il Genoa Sabato prossimo Ciao a tutti Sempre e comunque Forza Inter Ciao ragazzi